Ciao a tutti ragazzi, io sono MineForce e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo su Battle Teams 2 e lo proviamo subito. Oddio! Oddio raga, quanti ne ho levati? Tre! Tre in una botta? Grande! Comunque, mi piace, è molto frenetico questo gioco. Aspettate, aspettate, aspettate! No! Ok, molto frenetico perché ci sono nemici dappertutto e ci sono delle squadre composte da una cifra di giocatori. Quindi, veramente... È casino allo stato puro! Ma quanto è difficile parlare e sparare allo stesso momento, raga? Oh mio Dio! Eh, stavi a cecchinare? C'è qualcuno di qua? Guardate! No! Uh, ma quanti ce ne sono? Sconfitta. Ah, ma ero entrato in una partita, ha già iniziato. Dove vai? Comunque questa mappa è piccolissima, quindi... Uh! No, solo due li ho uccisi! Due, anche stavolta? Vabbè, visto che questa mappa è piccolissima, alla fine è facile fare più di una kill contemporaneamente. Oddio, ne ho levati tipo quattro, raga! Dovevo nascondermi un pochino. Aspettate, giochiamocela qui piano piano, stando al limite. Oh, c'è qualcuno sulla sinistra? Eccolo! Oddio, oddio! Piano, piano, piano! Dobbiamo stare attenti ai nemici che possono fare il giro. Tipo, di là. Oh no, solo tre! Cioè, solo, minchia, raga! Stiamo facendo strage! Mettiamoci di qua, piano! Ok! Uno, due, tre! Ah! Pensavo di averne preso un quarto! Non sto capendo nulla! Ma quante kill stiamo? 27 kill con tre morti! Minchia, un rapporto altissimo! Andiamo per vie laterali, raga! Voglio coglierli di sorpresa! Ah, se l'aspettavano! Come sconfitta, raga! Ma stavamo a fare un partitone! 31 kill, tre morti! Ah, e poi, raga, a proposito di FPS... Io sto aspettando X-Defiant, quello della Ubisoft! Non esce più, raga! Ora si dice che dovrà uscire entro marzo, ma speriamo! Non vedo l'ora! Dove siete? Ah, ok, stiamo provando la M16? No, aspetta, aspetta! Oh! Ah, oddio! Allora, non mi trovo tanto con le armi che sparano tre colpi alla volta, però... La M16 sembra molto forte! Oddio, no! No! Oddio! Eh, raga, avevo finito i colpi, stavo col cecchino! Voglio uccidere qualcuno con l'ascia! Vieni! No! Ok, proviamo questo nuovo fucile d'assalto! Oh! Vabbè, ovviamente senza mirino e lontananza è impossibile! Ok? Oh, non sembra essere male, raga! Oh, non è via! Oh, no! Bam! No! Proviamo lo scar con il trepper. Sempre una garanzia lo scar. Abbiamo vinto, raga, ma stavamo perdendo! Sono velocissime le partite, eh, devo dire. O sono io che entro in partite già iniziate? Vabbè, dettagli. Oh, ma che è in due colpi li ammazza? In un colpo li ammazza, raga! Ok. Spammando i colpi si ammazzano subito i nemici. Ah, distanza ravvicinata, raga! Muoiono subito! Aspettate, guardate! Mi metto nell'erba alta. Ora me li prendo tutti. Non vedo nulla. Boom! Bam! Uhuh! Sono pericolosissimo anche come cecchino! No, mi sto avvicinando, meglio cambiare arma. Oh, ma proviamo qualche arma a loro. Niente, raga, devo usare solo le mie armi. No! Raga, ma sono cortissime le partite, cortissime. Cioè, nel giro di cinque minuti, una si fa tre partite. Lanciamoci in un'altra partita. Ok. Se n'è andato quello? Oh, ma sparate! Spara, spara! Cecchino, c'è un cecchino! Oh, ma stanno tutti qua! Ma che è? No, 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 no! Appena respawnano i nemici, non possono essere uccisi, giustamente. C'è un attimo di tempo, vedete? Attenzione! Bam! Oddio, raga, ma ero entrato in un'altra partita già iniziata. Ma riesco ad iniziare una partita da zero? Proviamone un'altra. No, ora per sfizio devo guardare i punteggi. Devo capire se inizia da zero o no la partita. Eh, è già iniziata, raga. Questa dura due minuti. C'è uno lì! Oh, headshot! Madonna, raga, ho fatto strage! Oddio, 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 oddio! Aspettate, aspettate, non sto capendo nulla. Ah, ah, ah! Mi stanno mirando, mi stanno mirando! Ah, vabbè, giustamente sono rimasto troppo fermo. Bam! No! Fermi, fermi, fermi! Devo ricaricare. Ok? No! Pensavo di averla presa. Vittoria, raga! Very good. Va bene, ragazzi, questo era un assaggio di Battle Teams 2. Fatemi sapere che ne pensate qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e un commento e iscrivetevi al canale attivando la campanellina. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video! Ciao! Grazie a tutti.